ma buonasera signori buonasera buonasera come va come state niente mi sa che devo cambiare cosa per ma non ho capito perché fa così ma ho capito perché fa così aspettate devo prendere un oggetto oddio stavo volo a casa devo prendere questo oggetto e devo girarlo così avevo detto che lo riparavo però è volato qualcosa che era ma non ferma vabbè si sto facendo casino però l'importante è quello l'importante è aggiustare i componenti mortacci lua della tua madre tu zia la morta pelata col cerchietto vediamo un po com'è ah perfetto ok sta sedia non imparerà mai allora che faremo oggi stasera signori come avete bel letto dal titolo ci vediamo questo disney marvel games showcase di 23 expo però ce lo vediamo dopo non vi preoccupate c'è un po di mal di pancia oggi non so perché certo abbiamo iniziato un po prima però alla fine allora intanto vi dico delle novità che sono appena uscite hanno annunciato i nuovi titoli il nuovo vabbè titolo madonna questo è subito questo è subito questo è subito annunciato nuove cose hanno fatto un video promo riguardante captain marvel the marvels scusate direi va bene ci sto hanno cambiato il logo di dar devil born again stai facendo nuove interessanti cose interessanti che per ora però non vi posso far vedere è morta la regina elisabetta lo so lo so lo so lo so purtroppo è stata una una grande regina aspettate è stata un'ottima regina tant'è che è stata l'unica regina a sovrastare le due generazioni quella vecchia e quella presente nostra quindi è stata una bravissima regina era anche una bella ragazzetta da giovane cioè era figa era figa appena l'ho saputo ci sono rimasto di merda ho fatto la storia su instagram e mi hanno detto no vabbè non ci credo è proprio una brutta notizia no perché sono italiano cioè allora regà a partiti scherzi mo no a partiti scherzi voglio dire quello che è successo coming to home no della coppa dell'anno scorso l'estate scorsa cioè capite quello era il calcio che era differente però veramente perdere un pezzo di storia ce ne vuole regà ce ne vuole tanti meme hanno suscitato dell'immortalità della regina elisabetta però purtroppo la storia è ben differente e a me mi dispiace questo mi dispiace se fosse stato conte come il politico tu conte non mi sarebbe fregato proprio te strisce però la regina elisabetta ha fatto il suo corso e niente mi dispiace solo per questo addirittura i manifesti a napoli i manifesti funebili per la regina elisabetta a napoli va bene ci sta ci sta perché certo mi dispiace veramente moltissimo no aspettiamo soltanto l'evento poi dopo di che porco giuda mi fa male pure qua mi fa male tutto pancia e siamo un po in ansia vero? siamo sempre in ansia non so che cosa faranno vedere Mavest Spider-Man 2 o Mavest Wolverine Mavest Avengers addirittura una nuova IP riguardante Capitan America e Black Panther chi lo sa, chi lo sa del resto oh finalmente ce l'avevamo fatta lo state facendo il calciomercato ragazzi? è fantacalcio? io no non mi interessa niente non mi interessa niente c'è una cacola in nada o no? non mi interessa non mi interessa non mi interessa sempre è proprio tra l'altro ragazzi vi ricordo di andare su twitch e vedere tutto le informazioni di twitch per andare a vedere tutte le mie cose ovvero la musica di jacob edwards il link per donare tutte le cose interessanti e inerenti al supporto di kingscord 7.7 mi fa male minchia io sapevo che oggi non dovevo stream però quando stream attacca a me bravo attacca a me dai un plan plan ah va bene no vedete se strontzo a 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 O basta! Ma io vuoi che ti faccia il culo Tu vuoi che io ti faccia il culo Va bene Sì sì Beh dai Allora viola così Giallo così E verde così 28 minuti all'evento Non so quanto dura Può durare anche Hanno detto che dura una mezz'oretta Quindi Non Cioè come dire Va bene Fai il cazzo che vuoi Vai Bravo 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 Mi piace così Vai vai Ancora? È finito? Grazie eh E niente Potrebbe durare mezz'ora Come potrebbe durare un'ora Però io sto fino a 10 e mezza Raga perché poi dopo Dopo devo andare Oppure posso fare A mutato Faccio la live mutata Perché dopo una certa ora Grazie a tutti grande attenzione bella preso si sto giocando a drago bull perfetto vai fai la special se ne vaffanculo la faccio vedere va la special no merda pezzo di merda hai evitato la special bravo boom vabbè ho vinto guarda quanto è figo un gogo 3 sinter è una roba assurda quanto sto in hype eh sto abbastanza in hype ragazzi non tanto però il giusto solo che se mi fa male sto nervo porca miseria mi fa male da morire posso trovare una legends limited qui per favore legends limited ragazzi la troveremo secondo voi no che peccato prima l'ho trovato ho trovato super saiyan vijita super saiyan blu e niente gioco di merda gioco di merda oh pitty girl oh pitty girl oh uno mi ha scritto su instagram ciao king senti una curiosità surry ha litigato con marza per via delle slot machine cosa le pensi delle slot machine allora intanto devi passare il motorino poi ti posso parlare intanto che se ne fai il motorino e poi ti rispondo eh ok cosa ne penso delle slot machine allora raga ve posso dire una cosa a me non mi rifega un cazzo io le porto ugualmente su twitch si certo ovviamente è vietato ai minori di 18 anni il gioco d'azzardo ok però se i minori vedono le live su twitch e poi si vedono che giocano d'azzardo non è colpa mia e se voglio portare un contenuto violento quello che è d'azzardo io lo voglio fare e lo posso fare se tu ti lamenti che uno porta dei contenuti sia che a te non ti sta bene perfetto non mi seguire basta è inutile che rompi il cazzo surri eh pure tu che dici ste cose eh non mi pare equo visto che considerando che tu su youtube hai portato un contenuto riguardante spacchettare cose comprare delle box però quel sito era illegale alla fine hai fatto dei video riguardanti eh 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 cosa riguardanti il casino eh mi fa fare brutte figure poi eh ah surri eh dai certi video guarda veramente c'erano che tu non dico al casino al bingo ma pure al bingo è la stessa cosa perchè poi il bingo raga se tu giochi di famiglia sono due spiccetti di centesimi vabbè però se vai al bingo quello vero dove fai cinquina e bingo lì so sordi e lì ci prendi il vizio caro mio eh è che brutte figure asurri eh io te lo dico sono un ludopatico almeno me ne interessa guarda ti faccio vedere una cosa eh perchè è giusto e perchè è giusto e perchè è giusto surri casinò ah ovviamente non parlo non parlo del gta si al che azz eh perchè se no sarei uno stupido bibi ma io ovviamente parlo ok non sei stato tu a portarlo però tu fai parte dei mates e i mates ci sei pure tu questo è un video casinò vedi guarda chi c'è c'è anima c'è stepney eh 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 tu fai che critichi a marza perchè portai cose dai su uh guarda guarda c'è un video dove ci sei tu con anima con anima che fai jackpot a casino guarda c'è scritto pure sul titolo non si vede una sega però aspetta andiamo facciamo vedere dove appari tu eh perchè è giusto eccolo si a parte pubblicità aspetta far passare la pubblicità guardate quella è una slot machine Surry e quello sei tu Surry e c'è una slot machine dietro eh Brighella Brighella Asurry Asurry Mannaggia Mannaggia cioè non vuol dire anche se non se non fai vedere su youtube che non giochi alle slot machine le hai fatte vedere le slot machine Brighella Brighella ah vabbè io non voglio romper cazza nessuno però alla fine se uno dice questo eh 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 ma anche su youtube se è un altro modo eh perchè su youtube è un conto e su twitch è un altro però eh eh anche lì è giocata ci sono canali youtube che fanno grattevinci a quelli non gli dice niente vai a romper cazza a marza e dai su mi sembra un po' esagerated poi non so eh proprio tanto io porto il contenuto il cazzo che voglio quindi alla fine sì io ho 69 follower su twitch e ce ne ho 44 su youtube a me che me frega a me mi piace fare sta cosa c'ho l'affiliazione a me che me frega ok ok tra poco inizierai il d23 con il parler dedicato ai videogiochi pubbliceremo tutte le notizie marvel ok e sta risintelizzati non c'è problema l'importante che se danno la mossa perchè mi sto a fare la colla mancano due mesi all'uscita di god of war due da quattro sono passati a due e sono volati così via mannaggia mannaggia ma questo è un garpez ci credo ci voglio credere ci voglio credere ma mica è questo ma mica è questo non c'è no scusate sto è una cosa tra me e me non vi preoccupate è una cosa privata per me però questa io la devo inviare su whatsapp è incredibile sta cosa è una roba assurda è una roba assurda sono troppo contento ragazzi sono troppo contento molto contento non lo sa no vabbè uuuu dark devil shulk fighissimo fighissimo bello bello ecco a me la cosa che mi fa incazzare è che stanno facendo i meme sulla regina elisabetta che è morta almeno questo non mi piace non mi piace perché c'è la signora che stava col paragadute la regina che elisabetta che rispavano dopo il bulag dai adesso può fare una cosa del genere non mi pare non mi pare il caso non so non so quali argomenti portare vabbè vabbè domani ragazzi ragazzi domani c'è l'evento di assassin's creed mirage dovrebbe uscire mirage ragazzi annunciato non so cosa posso annunciare il playstation showcase ormai è abbandonato quindi alla fine a meno che non faranno uno state of play più avanti ma chi lo sa chi lo saprà mai di solito era proprio l'otto o il nove portare lo playstation showcase però o solo fanno il dodici no a sto punto più settimana prossima lo sapete quello che ipotizzo di più sì forse settimana prossima sperando iddio che esca uno playstation showcase forse speriamo 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 tutti oh stamattina appena ho ricevuto una notifica che è uscita tutta dico tutta la stagione 5 di cobra kai me la sono bruciata tutta dalle 11 del mattino vabbè alle 11 fino alle 4 e mezza del pomeriggio mi sono bruciato tutta la stagione di tutta la quinta stagione di cobra kai wow ehi vabbè stiamo aspettando qui mancano 13 minuti ma allora io ho le aspettative basse ho le aspettative bassissime non so cosa faranno vedere midnight suns pure potrebbero far vedere se ci dobbiamo mostrare qualcosa almeno un 3 allora su Marvel's Spider-Man 2 qualche trailer però che fa vedere pure il gameplay e invece se proprio devono far vedere Wolverine preferisco di più un trailer che un gameplay perché voglio sapere voglio sapere anche la storia di di coso di Wolverine per quello che è successo e chissà se abbia andato in un altro mondo in un altro universo bah andiamo un po' sto microfono lo vedo troppo giù boh io normale sto da dio quindi 12 minuti raga io vado a fare la pipì e arrivo 2 minuti e arrivo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, dieci minuti all'evento... No, sto vedendo un attimo perché se c'è stata qualche zanzara io la posso uccidere in questo momento. Questa è che mancano dieci minuti. Allora, riguardante un'altra cosa, la cover di God of War Ragnarok arriva domenica all'11, però l'11 non ci sono a prenderla, quindi credo che il giorno 12 vado a prendere la cover del telefono. Ve la faccio pure vedere, non vi preoccupate, in poche parole è simbolo di God of War Ragnarok però... Allora, è un po' diverso perché visto che l'immagine del coso... L'immagine del disegno è strecciato, in poche parole fa tipo così, però qui e qui non si vede una parte, quindi c'è solo il sopra e poi c'è quella cosa così, capito? Che è figa uguale, regà, è figa uguale perché la cover è bella, perché è bella. Però l'ho presa, ho pagato 16 euro per la cover. 17, facciamo 17, va, che aggheraviamo sul prezzo. 8 minuti, allora io direi di mettere subito la schermata qui. E aspettiamo, aspettiamo 8 minuti. 9 settembre. Ma... Ok. Scene tagliate a parte. E niente, aspettiamo. Siamo qui, aspettiamo. Tra l'altro qui, qui sopra... Aspettate, eh. Allargo. Qui sopra, vedete sopra la testa di 11, qui? Qui ci sono dei gadget. Un guanto di Thanos, della mano destra, di Iron Man. Poi c'è lo scettro di Loki, con la gemma della mente dentro. E poi c'è il Mjolnir. Gli altri li ho messi lì. In un cofanetto assicuro. Non mi preoccupare. Appena inizio, metto le cuffie. E stavolta l'evento me lo vedo per di là, non me lo vedo per di là. Perché tanto è vedere e non giocare. Perché giocare... Lì è più lento rispetto qui. Invece qui osservo. Tanto raga, dura pochissimo. Volano via queste... Questa uretta vola via. Sono... Sono... Non c'ho ma dubito. Visto che... Allora... Vediamo un po'. No. Niente ancora. Che figata. Hanno fatto... La cover, vabbè, fanmade del poster di Midnight Suns. Composta da Ghost Rider, The Punisher, Morbius, Moon Knight, Blade e Doctor Strange. Magari, 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 un giorno. Cinque minuti. Dai, ragazzi. Super hypati. Ovviamente, questo... Questa live la rigateco su YouTube, eh. Ho già la miniatura pronta. Non vi preoccupate. Se fa cagare, ho scritto che merda. Se invece è bello l'evento, ho scritto my god. Non vi preoccupate. Dipende, dipende, dipende. Ho già la miniatura pronta. 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 Palore toccante Sì ho rivisto Torloventander L'ho rivisto E' più bello Ci sta Poi ho visto il quarto Ho visto anche il quarto episodio di Shiulk Che ragazzi tra l'altro Shiulk è una roba assurda Più avanti se vai Più è intrigante No? Bello sto cuore Tre minuti E sta per iniziare signori E' un po' moscia Volevi mettere un po' di musica Però alla fine Che tra l'altro l'11 settembre Esce la mia nuova musica su Youtube E su Youtube Musica Quindi andatela a vedere Che è un videoclip ragazzi È un videoclip Che dura 4 minuti Sono sbagliato Allora il video Della videoclip L'ho preso da un utente Che fa CGI animated Che proprio Se lo cercate su Youtube lo cercate E si chiama Il filmato si chiama Nova Ok quindi cercate Nova E le troverete il filmato Io l'ho cercato E l'ho messo con la mia canzone Perché sembrava il più adatto Spaziale Cosa eccetera Sembrava fiego Un bacino Uh che bello No Tu iniziato? no 60 secondi ok signore e signori siamo pronti diamo uno sguardo a questo Expo Games Showcase di Disney e Marvel mettiamoci le cuffie andiamo a andare in baggio perché stiamo per assistere a uno degli showcase più importanti della storia intanto che la serie mi si sta abbassando ok la premiere inizierà a breve a breve minchia dai siamo in hype siamo in hype signori se si avviava adesso era il culmo ciao ciao ci siamo ci siamo 1 10 8 8 6 5 4 3 2 1 Mamma Un astronato Ok Siamo pronti Ah è vero Non solo Martel Ma pure Star Wars Eccetera Ok 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 Remember The Force Will be with you Always Ok Iniziamo Leggeri World Premiere Attenzione Ok 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 Tron Identity What a way To start The show Welcome To the First Ever Disney And Marvel Games Showcase I'm your host Blessing Adioye Jr And today I'll be your NPC guide As you quest Through game Announcements From Disney Pixar Marvel Lucasfilm And 20th Century Now Now If you want to keep up to date With Bithel Games First adventure In the expanded Tron universe And their upcoming Collaborations With Disney Games Be sure to follow Their socials In fact You should probably Drop a follow On all the Disney game socials For more info On today's world Premiers Like this one Right here Ok Another world Premiere Nintendo Switch Oh no No Fa cagà Fa cagà Mickey Minnie Donald Goofy We bid you Welcome To the world Of Monarch Tell us what you need Toku Our entire world Is in danger You must travel To the three biomes Of Monarch And retrieve The books of knowledge If others are in need We should help them Don't you worry To the three biomes We'll do it The books are gone It's okay We'll explain TBD 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 Wait Are those placeholder words Or the actual words Yes That was awesome I got dibs on Goofy Y'all Disney Illusion Island Debuts exclusively On the Nintendo Switch system And whether you're looking To run solo Or couch co-op With up to three friends As the bad four You can put it On your wish list Today Now If you've been wishing For more info On Marvel's midnight sun Ok Questo Ci interessa un po' RPG from the tactical geniuses At Firaxx's games You play as the hunter The first customizable Original hero In a Marvel game Lead Blade Magic Ghost Rider Niko Minoru And more In a fight against Lilith Mother of Demons Plus The elder god K'Than With revolutionary Card-based tactics Featured In this all-new Gameplay trailer Gameplay trailer Attenzione Attenzione Trailer Gameplay E' un gioco di carte Regà Però ci stanno Le animazioni Che rende Bastante Pico Si è strategia Tipo I vecchi Vagian fantasy E' così Non è niente Perché Però Ha il suo perché Ci sta Avevo detto che Ci stava E' un gioco di calisto You heard what the trailer said Marvel's Midnight Suns Is coming out This year On December 2nd For Windows PC PlayStation 5 And Xbox Series X And S And it's available To pre-order Today But that's not all Right now We have a sneak peek Of the intro For the set Of new prequel shorts That gives A never-before-seen preview Of the heroes That you'll be playing as Fermi tutti Boni Sapermi Midnight Suns Not too strange Worldbeerini Ah sapermi Midnight Suns Blade Ok Smiley Puddy Rumpen Hit Beit orig Tammery Benno! Capitolo! Benno! Spiderman! Southwitch! Benno! Hunter! Hunter! Venno! Hunter! Crickle shorts! Yeah, that looks like it's gonna be dope. Be sure to follow at Marvel Games and The Midnight Sun's social channels for more information. And now, here's some exciting news about a Marvel game you can play today. Yeah! No! 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 Now listen, I know you came here for the trailers and DLC announcements. and big reveals, and not me. But I'm cool with that, because I wanna see what's next, too. So let's get to it. Oh, hi there! You look like someone who's ready to join me on a wild ride to the multiverse. What's that? You have plans right now? We'll cancel them! Welcome to Marvel Snap. You can access it from anywhere. Your house, your workplace, bathroom at your workplace. Let's be honest, most likely the bathroom, am I right? It's clobbering time! And it's as easy to play as solitaire. Actually, easier. I don't think I've ever won a game of solitaire. Oh, man! But here's the twist. These cards are super-powered. Like, the entire canon of Marvel character is kind of super-powered. We are before Galactus. Maybe you, like me, would love to see Shang-Chi kick Thanos' evil purple butt. Or you've always wondered what the Guardians of the Galaxy would look like in 8-bit mode. Well, wonder no more. It's easy to pick up and so much fun to master. In other words, less time than a bagel takes to toast. Who doesn't have a bagel's worth of time? So don't wait to explore a multiverse of possibilities. Oh, snap! Marvel Snap! It's time to make your move. The game launches on October 18th. Pre-register now at MarvelSnap.com Yeah, I can get with that. Don't forget to set a reminder to download Marvel Snap on your Android and iOS devices on October 18th. And be sure to stick around here for more Marvel reveals later in the showcase. But first, next year, gamers are getting dropped into the middle of a Xenomorph conference. And the tactical squad-based action of Aliens Dark Decide. In this look at gameplay, take your squad of Marines on missions as you infiltrate and investigate the Xenomorph outbreak. Develop your tactics, assemble your colonial Marines and take on the Xenomorph Fords in Alien Dark Descent next year on consoles in PC. But first, let's talk about Avatar and revisit Pandora. In Avatar Frontiers of Pandora, you'll be immersed in the beauty and danger of the Alien Moon and experience a living and reactive world firsthand as a Na'Vi. You'll explore new environments and interact with all new creatures, plants, and characters in the never-before-seen Western frontier. Fighting against the RDA in a brand new standalone story for PC and next-gen consoles. Now from Pandora to a galaxy far, far away. Lego Star Wars The Skywalker Saga destroyed sales records like Rebels taking out Death Stars. If you haven't picked it up yet, or you've already blown up all the Death Stars too, here's another reason to jump into the Skywalker Saga. New characters including Cassian Andor, Reva, Captain Rex, and more are coming to Lego Star Wars The Skywalker Saga soon. Take on even more Stormtroopers, with a lightsaber, or the Force, party your way through the galaxy, and get ready to expand your character collection. The Galactic Edition comes out this holiday season with 13 character packs including six all-new ones adding some of your favorite characters. Now, for those who don't know, Lucasfilm Games is known for more than just Star Wars titles. Today, the voice of Guybrush Threepwood, Dominic Armato, is here to share a look at the upcoming Return of Monkey Island. Hello fellow pirates! My name is Dominic Armato, the voice of Guybrush Threepwood. Don't be fooled by the name. The Monkey Island Adventure series is about pirates, not monkeys. It's been a part of the Lucasfilm family of games for more than 30 years, beginning in 1990 with The Secret of Monkey Island. I want to be a pirate! Through the years, each game has been carefully crafted to feature the humor, horror puzzles, and sense of adventure that made Monkey Island such an iconic video game series. Plus, we've got some outstanding voicing, a wonderful new musical score, and a gorgeous illustrated art style. We've also put together an in-game scrapbook in which Guybrush Threepwood details his adventures and important moments from previous games. It's a great way to get caught up on what's happened so far, or a fun refresher if you already know the whole story. We can't wait for you to discover the secrets hidden in Return to Monkey Island. Play it on Nintendo Switch or PC on September 19th. You can strap on an eyepatch and celebrate Talk Like a Pirate Day on September 19th by picking up Return to Monkey Island. Lucasfilm Games isn't the only team bringing the nostalgia vibes today. Over the last few years, Disney Games has revived classics like Aladdin, The Jungle Book, and The Lion King. And now they're teaming up with Empty Clip to bring back another classic, Gargoyles Remastered. A fan favorite that's sure to have you screaming like a Viking yeeted by Goliath. Yep, that's the scream. And while you'll have to wait to climb back into the world of Gargoyles Remastered, you can grab your phone and start unlocking heroes in this Disney and Pixar action RPG right now. First look, attention, first look. When the call goes out for heroes, you never know who will answer. Sometimes the best hero is a villain. Someone a little sinister. Who will get the job done. And doesn't care who they have to push their side. I don't understand Broker. Even if it means forging devious alliances to fulfill their schemes. After all, there is strength in numbers. Especially when that number is number one. Mirrorverse. I'd suggest downloading Disney Mirrorverse and leveling up your teams, like now, if you're hoping to take on Hades and the other villains dropping this October. All right, let's get into our next reveal. Let's get into our next reveal. What the fuck? Let's go. Yo, what the fuck? I ruined thisvale day here. Ench embargo and this damage all the time. That was different. And it's really 24 hours Vado a vedere parca gara al cazzo! Mancano un gatto abito inizio? Chissà cosa torna a vedere, chissà! Questa è buona! Probabilmente che vince quello di Topolino alla fine gara, vuoi vedere? Ah no! Speed storm! I'm coming, son! Per farti capire! Ma è tipo... una cosa... Mario Kart! Farò con la pinza! Oh! Come in soon! Ma non me lo dire! Già me l'hai detto prima! Come in soon! Ha speso altri 15-20 secondi per dire come in soon! Ciao la puttana! Ma fanno pure spiegoli dicendo che questo è un gioco bello di macchine per bambini! E ora, proviamoci un giovane idyllico disney! Meno male che ho già le minature pronte per youtube! Ovviamente uscirà domani credo questo video! sta live che lo vai ricaricata su youtube e uscirà domani! Non ce la faccio per farlo oggi! Dormirò... morirò... non lo so! Sono qui! E' fatto che vedo qualche mincezza! Hey there! Hanno detto che dovrebbero far vendere un gameplay di Spiderman 2 Però... lo sta vendendo una ceppa di cazzo! FUNTIFIE! OH! YEAAAAH! Vido NICE ANS! Grazie If you want to help out some of your favorite Disney and Pixar friends in Disney Dreamlight Valley right now, good news, you can. With Xbox Game Pass or by grabbing the Founders Pact on your PC or just about every console you own. Now, for those who are looking for an action-packed MMORPG shooter that you can play in the palm of your hand, look no further than Avatar Reckoning. Soon, you'll be able to battle for the future of Pandora on your phone. But for now, we've got Jared Yeager, an executive producer at Walt Disney Games, here to tell you more. Hey, everyone. I'm excited to give you a sneak peek at the upcoming Avatar Reckoning. In this MMORPG shooter, you'll return to the moon of Pandora to find your own way in the aftermath of the Battle of the Hallelujah Mountains. As you begin your adventure, you'll customize your own Avatar Warrior. You'll also be able to collect and customize a range of weapons to prepare you for your journey. As you set out across single-player missions, you'll discover new regions as you unravel a mysterious story, encountering new clans and defending yourself from the perils of Pandora, from creatures to the RDA forces. You'll also be able to play both with and against others in online multiplayer. Team up in instances to battle with other players trying to survive against powerful enemies, or battle in player-versus-player mode, where you'll team up against other players across a variety of maps. You'll be able to experience all of this and more when Avatar Reckoning hits your mobile device soon. Ah, Reckoning, bro. Reckoning. And now, another world premiere. We'll meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again Some sunny day Keep smiling through Just like you always do Till the blue skies drive the dark clouds far away What? Oh my god I already knew it Why the mask? I know you're probably hopping onto Reddit to break down all those easter eggs But I recommend you don't tap away just yet Because there's another world premiere from Marvel Games coming your way right now Black Panther Capitano America Un'altro world premiere Fammi vedere Aspetta che cos'è questo Assets Vado Sip Non Sip 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 I zonni anche ho fatto, eh. Ma questa è la roba da Pocanon Go, vedete? E là, la prima volta Disney e Marvel Games Showcase. E ho avuto così divertente come l'ho fatto. Io ho benvenuto Adio E.J. Grazie per con noi. È stato il nostro piacere di serviti. Posso lamentare, ok? Non ci hanno fatto le debut troppo Spider-Man 2 né Wolverine, però una nuova EP riguardante Black Panther e Capitano America. What is your next move? Vero! Ecco qua, questo ve ne portasci qua. Mannaggia a voi, oh. Mannaggia. Mi è dispiaciuto molto, però ci hanno dato la bomba finale. E io sono rimasto, sono contento così, guarda. Non sono venuto. Sono venuto al 20% però hanno dato quella bomba regale di Capitano America. Fighissima, grandissimi. Va bene così, va bene. Non mi posso lamentare. Complimenti. Va bene, va bene così. Va bene, va bene, non mi posso lamentare, non mi posso lamentare. 5 minuti e poi vediamo la cosa. Allora, 5 minuti, tanto levo qua che mi fanno male... Mi fa male l'orecchio. Allora... Allora, vi dico questa cosa, vi dico la mia. Non mi lamento. E' stato appena annunciato un gioco che con protagonisti Capitano America e Black Panther, abitato nella Seconda Guerra Mondiale. Allora, io vi giuro, però su Gesù Cristo e la Madonna, io vi giuro che se è un gioco RPG barra... Ehm... Io voglio un gioco normale. Voglio un gioco normale. Non voglio cazzate, non voglio gioco di carte, non voglio dall'alto che tu fai cose cose... Non voglio una roba del genere, eh. Voglio tipo Marvel vs Spider-Man, tipo come... Perché sennò quitto. Quitto la Marvel, gli mando un bel vaffanculo enorme così. Sennò... Capite. Ok. Allora, vediamo se c'è qualche altra notizione in più. Sennò... Stacco. Scusate. Ragazzi, hanno annunciato una nuova EP, Black Panther e Capitano America, abitata nella Seconda Guerra Mondiale. Hanno annunciato adesso. Mi mando pure la notiziona. Peccato che però non hanno fatto vedere... Oddio. Aspetta, questo lo elimino. Peccato che non hanno fatto vedere Marvel vs Spider-Man 2 o Wolverine. Volevo vedere qualcosa di più però... Mi ha dato la botta finale e mi accontento con questo. Perché è veramente una roba assurda. Un annuncio epico. Ok. Detto così, ragazzi. Invece noi, ragazzi, ci salutiamo qui. Ci vediamo domani alle ore... 9 di sera... Per vedere l'evento di Ubisoft riguardante Assassin's Creed Mirage. Quindi non farò domani la live di pomeriggio, ma la farò di sera. Intanto vi ringrazio per aver visto questa live. La pubblicherò domani su YouTube. Non vi preoccupate. Ci vediamo domani. E mi raccomando, andate sul mio canale Twitch. Informazione. Lì vedete tutto. Cliccate. Fate... E signori, ci vediamo domani. Ok? Ciao a tutti, ragazzi.